Buon pomeriggio, ben trovati a tutti, grazie di essere collegati, grazie della vostra partecipazione a questo pomeriggio di informazioni sul nuovo bando europeo, sul nuovo bando Erasmus, con un particolare focus al settore dell'educazione degli adulti e in particolare alla azione chiave 2 e appunto i partenariati. Questo nuovo bando introduce nuove opportunità ma anche un nuovo modo di partecipare alle opportunità messe in campo dal programma Erasmus per quanto riguarda appunto la capacità, la possibilità di fare rete, di cooperare in questo caso tra istituzioni e organizzazioni che si occupano dell'educazione degli adulti. Dicevo nuove opportunità perché chiaramente questa nuova call esce rinforzata e si concentra su quelle che sono ormai le quattro priorità del programma, quindi l'inclusione sociale, l'innovazione digitale, la partecipazione attiva alla vita democratica da parte dei cittadini europei e poi diciamo tutta l'attenzione all'ambiente, al cambiamento climatico e quindi alla sostenibilità. Ma ci sono poi anche dei modi di partecipare diversi e io su questo mi vorrei un attimo soffermare invitandovi ovviamente a seguire molto attentamente quello che i colleghi che sono qui presenti oggi e che ringrazio appunto di questa partecipazione e non solo oggi ma insomma tutti i giorni in agenzia e vi invito quindi a seguire con attenzione quello che verrà detto oggi ma anche poi a guardarvi i documenti e quindi a guardare il nostro sito perché noi pubblichiamo sempre tutti quelli che sono non solo i criteri, le priorità con cui la progettazione viene valutata e quindi selezionata e contrattualizzata ma anche perché ci sono ovviamente tanti consigli che rendiamo e tanti strumenti che rendiamo a disposizione dei nostri potenziali beneficiari e quindi di tutta la nostra ausenza. Dicevo un modo più semplice di partecipare perché l'azione chiave 2 da questo bando introduce il concetto appunto di impegno quindi poi di contrattualizzazione su una base forfettaria che è in qualche modo oppure comunque diciamo in una serie di articolazioni e di procedure è senz'altro direi una semplificazione da parte della Commissione Europea per cui avrete da una parte i progetti, i partenariati di piccola scala, gli small scale partnership e la KA210 e dall'altra avrete i partenariati per la cooperazione quindi di KA220. Per la prima volta dentro questo nuovo bando il finanziamento avverrà secondo un criterio appunto di l'AMSAM oppure quindi di contributi forfettari di costo. Che cosa significa questo? Significa che da lato Commissione Europea ci si vuole molto incentrare sulle attività, sulla qualità della progettazione, su quello che ovviamente i progetti delineano come obiettivi, come attività ma anche come risultato. Per cui si chiederà soprattutto agli esperti valutatori di fare particolare attenzione alla qualità progettuale e appunto a tutte le attività che vengono previste perché diciamo il concetto alla base di tutto è value for money o money for value vale a dire cioè ti do dei soldi e a questi soldi devono avere un valore. Questo valore non si misura tanto sulla singola unità di costo o sulla semplice ricevuta eccetera ma si basa sul valore delle attività che si vanno a realizzare e quindi anche degli obiettivi a cui vedrete corrispondono delle fasce di budget molto precise e questo anche in fase di pianificazione e non solo di rendicontazione si dovrà stare davvero e porre molta attenzione su quello che si vuole realizzare e quanto nella vostra pianificazione e progettazione ha valore, ha peso e quindi di conseguenza a quale scala appartiene. Quindi questa mia introduzione vuole già anche un po' affrontare questo discorso ma soprattutto per focalizzarsi ripeto su tutti gli strumenti e consigli che come agenzia rendiamo disponibile che quindi vi aiuteranno speriamo a realizzare dei progetti davvero di successo e con questo auguri e questo auspicio vi saluto purtroppo mi devo scollegare subito perché ho un'altra riunione. Vi ringrazio e lascio la parola all'autorità nazionale del programma, al Ministero dell'Istruzione e alla dottoressa Immagrimaldi che ringrazio perché davvero ci sta seguendo in tutte queste fasi sia di promozione che di consulenza e quindi mi fa piacere molto che il Ministero sia così attento appunto al lavoro dell'agenzia e alla cura che l'agenzia ha nei confronti di tutti i beneficiari. Quindi grazie molto e grazie Imma. Grazie a te Sara, insomma è veramente un piacere. Io vi porto i saluti dell'autorità nazionale alla dottoressa Simona Montesarchio e del dirigente dell'ufficio provinto del dottore Andrea Bollini e poi chiaramente insomma ringrazio l'agenzia per l'enorme lavoro promozionale ma anche di assistenza che in effetti fa da sempre con i beneficiari. Per quel che riguarda invece voi vi suggerisco insomma o meglio il mio suggerimento è comunque quello di prestare chiaramente grandissima attenzione alle informazioni che vi verranno date oggi in modo in effetti da poter pogliere questa opportunità che vi offre in effetti il programma in maniera tale insomma da crescere comunque non solo le competenze individuali e dell'organizzazione ma pure per come dire dare alle stesse vostre organizzazioni un respiro europeo. Grazie e buon lavoro. Passo la parola alla dottoressa Venturi. Sì sì grazie grazie Ima Grimaldi grazie al Ministero anche per queste parole per queste considerazioni e buon pomeriggio a tutte e a tutti anche da parte mia io sono Lorenza Venturi sono all'agenzia sono capo unità per il settore appunto Erasmus dell'educazione degli adulti e per la piattaforma Epale che è sempre collegata al settore dell'adult learning che immagino conosciate già e che comunque verrà illustrata dopo e quindi inoltre oggi con il mio gruppo di lavoro molto motivato e competente appassionato vi cercheremo di guidarvi verso quello che è la messa a punto finale delle vostre idee di progetto che immagino abbiate già insomma e proprio come portare a termine come trasformarle in una candidatura di successo. devo purtroppo aprire con una nota insomma una nota dolente però non voglio con questo scoraggiarvi ma siamo solo spronarvi a porre appunto come si diceva la massima attenzione pura anche poi nella nella finalizzazione del progetto perché effettivamente sull'azione chiave 2 anche nel c'è molto interesse nella tornata nel round la call 2021 abbiamo avuto un tasso di successo una success rate che si è attestata al 21% e quindi insomma già questo dato vi fa un po' capire leggermente meglio per quello che riguarda la eh l'azione chiave 210 eh scindendo il dato o il dato complessivo se andiamo a guardare appunto le due azioni chiave la la 210 ha avuto circa il 25% eh di tasso di successo la 210 ha mh due round nel primo round eh meglio forse perché appunto eh proprio inizialmente non non c'era stato un grossissimo numero di candidature ma poi insomma con il secondo round invece eh sono aumentate e quindi appunto eh il tasso di successo si attesta al 25% sulla sull'azione chiave 220 appena al 18% ecco quindi eh purtroppo per fortuna diciamo nel nostro paese ehm l'interesse per la progettazione Erasmus è molto alto e vedremo poi insomma per il nuovo anno il budget eh aumenterà per per il 2022 come continuerà poi progressivamente ad aumentare eh per per tutti gli anni del programma insomma quindi questa è una è una nota positiva e inoltre se ci sono degli avanzi di fondi poi noi come gestione li eh li riponiamo su questa azione perché per esempio per lo scorso anno forse complice anche eh la pandemia insomma le difficoltà la mobilità c'è stato un interesse maggiore sull'azione chiave due che eh forse rispetto alla chiave uno eh però insomma ecco noi faremo tutto il possibile per sostenervi e voi dovrete impegnarvi quindi scegliete bene scegliete bene ehm il tipo di candidatura il tipo di azione in base al alle agli obiettivi che vi ponete in base al all'impegno alle misure che volete dare al vostro progetto eh vedete adesso tutti i particolari e seguite assolutamente le priorità eh io adesso farò le le priorità eh orizzontali quelli che si riferiscono a tutto il programma eh su cui che io ora vi rimarcherò e mh e le priorità del settore che sono più vicini alle vostre attività che vi illustreranno eh le colleghe ehm perché veramente eh tutto il programma corrisponde molto alla realizzazione degli obiettivi strategico politici eh dell'Unione Europea di questa commissione insomma già citati eh dalla dottoressa Pagliai sostenibilità eh digitale inclusione eccetera attenzione anche ehm a non sbagliare eh la candidatura il settore della candidatura soprattutto fra educazione degli adulti e istruzione e formazione professionale anche detta BET con l'acronimo inglese eh questo rischio è presente è presente perché insomma ci sono dei margini di sovrapposizione non è tanto il il tipo di istituto che si candida non è tanto eh quello in base al quale si determina il settore ma proprio poi la la curvatura finale che date alle vostre attività quindi se intendete mh fare delle attività che eh sviluppano le competenze della persona eh in quanto tale a 360 gradi le competenze eh di base le competenze trasversali eh ecco questo è effettivamente il settore EDA se il taglio invece è poi ehm molto eh professionalizzante eh il settore è in VET però insomma appunto va valutato con attenzione e poi appunto la novità su cui ha già richiamato l'attenzione eh la dottoressa Pagliai eh la novità delle SAMS l'AMSAM dell'importo forfettario unico e anche qui fate attenzione perché ehm scegliete bene appunto in base alla gli obiettivi e le attività che che volete mettere in piedi eh il taglio la l'importo che volete richiedere perché eh non sarà più possibile ehm ridurre da parte dell'agenzia dei valutatori tagliare il budget ma eh o il progetto è commisurato all'importo richiesto oppure altrimenti eh verrà semplicemente eh rifiutato insomma ecco verrà bocciato in termini proprio più chiari o rejected in termini europei io vi condivido eh un attimo la mh presentazione veloce velocemente vediamo se mi prende ecco lo schermo intero solo per dirvi eh va bene chiaramente appunto Erasmus eh questo è il contesto e mh e appunto questi sono tutti i settori adesso del programma istituzione scolastica formazione professionale istituzione superiore apprendimento degli adulti cooperazione giovanile sport eh attenzione appunto ehm al a distinguere bene fra eh apprendimento degli adulti e VET qui vedete il il bilancio totale del della dotazione finanziaria del programma per i suoi sette anni che è davvero importante sono eh ventisei virgola due miliardi di euro a cui eh si aggiungono altri due miliardi per eh la cooperazione internazionale quindi eh qua praticamente un raddoppio rispetto al programma precedente il che testimonia veramente la l'importanza che eh la commissione pone e la fiducia in questo programma che come si dice come dice il nostro slogan eh cambia le persone apre la mente eh contribuisce ad arricchire appunto le persone eh sul piano eh personale professionale ehm in da un un uno stimolo agli istituti partecipanti ad aprirsi a modernizzarsi a a innovarsi e eh sperabilmente diciamo ha un impatto poi anche sul sistema eh questo appunto è quello che che ha dichiarato Ursula von der Leyen e mh anche proprio per eh mobilitarsi per la ripresa dalla crisi del covid per promuovere la crescita queste sono le priorità individuate quindi eh inclusione sociale mh transizione digitale sostenibilità ambientale viste eh diciamo da eh sotto due punti di vista eh da una parte il mh quelli che sono gli argomenti affrontati dal progetto cioè eh io farò un progetto incentrato sul sull'inclusione sociale quindi che eh insieme ai partner eh esamere alcuni aspetti di di questo macro tema come favorirlo eccetera quindi eh i topics quelli che sono gli argomenti del del progetto ma anche le modalità di implementazione quindi proprio anche nella nella gestione del progetto nel mettere nel nel suo svolgimento giorno a giorno eh dovrò aver cura di di favorire la partecipazione proprio all'attività del progetto anche da parte dei soggetti svantaggiati e e declinare appunto l'inclusione in ogni in ogni aspetto ehm a cominciare anche dalla dalla cura dell'immagine l'immagine nel nel vocabolario che scegliete eh nelle metodologie di accesso insomma veramente eh sotto un po' sotto tutti gli aspetti eh l'innovazione digitale quindi anche qui si mh vuole stimolare eh l'innovazione e la transizione verso il digitale delle delle persone partecipanti e degli organismi degli istituti degli enti eh in termini proprio di di capacity building di di gestione anche delle loro attività e quindi anche della nella della stessa gestione delle attività del del progetto eh d'altronde appunto anche gli strumenti eh a vostra disposizione ora sono tantissimi sono previste anche le attività eh le mobilità blended virtuali c'è la piattaforma epale a vostra disposizione eh sono davvero tanti gli strumenti e e infine insomma la sostenibilità ambientale eh appunto di nuovo anche qui non solo come eh come tema come argomento come eh messaggio come importanza del dell'aumentare la la comprensione la la sensibilità verso questo tema quindi una awareness raising ma eh anche proprio nel nel nelle vostre attività eh ad esempio anche vedrete per per le mobilità sono previsti degli degli incentivi laddove si utilizzano dei mezzi di trasporto eh più sostenibili a minore impatto ambientale ecco quindi io questo volevo eh rimarcare e volevo ehm sottolineare da parte nostra so che insomma lo sapete già e che eh lo ripetiamo un po' come un mantra d'altronde appunto vi ripeto è davvero importante che tutti i progetti lavorino per queste eh macro priorità dell'Unione Europea io qui mi eh fermo e mh prima di passare la collega e la parola scusate alla collega Stefania Andriani che vi guiderà eh attraverso tutte le specificità del della progettazione eh passo la parola alla collega Clara Italiano eh per un una dichiarazione insomma da parte del personale dell'Agenzia. Buon pomeriggio eh ritardiamo di qualche secondo la prosecuzione dei lavori per leggervi un breve comunicato eh dell'Assemblea dei lavoratori e dei le delle lavoratrici dell'Indire. Le lavoratrici e dei lavoratori dell'Indire evidenziano il perdurare di errori, mancanze e inefficienze nella gestione del personale da parte dell'amministrazione dell'ente. Sono tanti i colleghi ancora sospesi nel precariato. Un precariato pluriennale indispensabile al funzionamento dell'ente stesso. Per questi precari occorre prevedere stabilizzazioni certe entro la fine del duemilaventidue. Non si è mai posto rimedio al diffuso sotto inquadramento e all'assenza di una politica di valorizzazione e progressione del personale tecnico amministrativo. Occorre che si predisponga finalmente il fondo e che si avviano le procedure necessarie quanto tardive senza indulgere in ulteriori rinvii e soluzioni fantasiose. Inoltre è stata imposta ai lavoratori dell'agenzia Erasmus Plus una riorganizzazione frutto dell'ennesima consulenza esterna. Una riorganizzazione che non ha coinvolto il personale e che rischia di compromettere la sostenibilità del lavoro finora svolto a livelli altissimi e di eccellenza. Come riconosciuto dalla Commissione Europea. I lavoratori vogliono riprendere a lavorare bene, come hanno sempre fatto nella qualità dell'organizzazione dei processi e dei prodotti. Per questi motivi prosegue lo stato di agitazione del personale di Indire. Grazie per l'attenzione. Grazie Clara e appunto come vedete anche la situazione del personale, l'agenzia cresce, è cresciuta molto nel tempo, il programma cresce e con esso l'agenzia, però insomma ci sono alcuni aspetti ancora forse migliorabili. Adesso appunto entriamo nel vivo della giornata di oggi e passo la parola alla dottoressa Andriani. Grazie Lorenza. Buona serata a tutti e cominciamo con la presentazione sull'orientamento nel settore dell'educazione. Datemi un attimo per avviare la presentazione. Il settore dell'educazione degli adulti appunto come è stato ben illustrato anche in base alle priorità. Oggi io vi parlerò proprio delle call specifiche K210 e 220. Prima di tutto, prima di iniziale, volevo fare un appunto su quelli che possono essere i documenti principali dal quale partire. Sicuramente già molti di voi li avranno visti, ma è importare. Ok, scusate, ricominciamo. Dicevo, volevo fare un appunto proprio sui documenti dal quale partire, che sono i documenti ufficiali che potrete trovare nella sezione programma del sito Erasmus Plus e sono l'invito a presentare proposto alla guida ufficiale e il nuovo documento che è stato proprio pubblicato oggi e l'ho trovato nella sezione News, che si chiama Handbook sulle Lamsam. Questo Handbook è un documento di supporto, un manuale che, diciamo, va a specificare come utilizzare gli importi forfettari di cui vi parlerò. Ovviamente, come dicevo, ci focalizziamo su quest'azione chiave di cui fanno parte appunto le due linee partenariati di cooperazione e i partenariati su piccola scala. Volevo presentarvi anche le piattaforme disponibili, di cui parleranno poi i colleghi successivamente, soprattutto di Epale, che è la piattaforma per l'educazione degli adulti. Le scadenze di quest'anno sono il 23 marzo per i partenariati di cooperazione e i partenariati su piccola scala. Hanno anche il secondo round, il 4 ottobre. Teneteli a mente, ovviamente, e poi, diciamo, ne parlerò anche nello specifico. Queste sono le priorità di cui abbiamo già ampiamente parlato, quindi, diciamo, vado avanti. Queste, invece, riguardano le priorità settoriali. Diciamo, anche queste le potrete vedere poi sulla guida in maniera più dettagliata. Quello su cui mi volevo concentrare è il fatto che tutte queste priorità riguardano comunque un'alta qualità dell'apprendimento, un'alta qualità, ma anche dei percorsi di riqualificazione e di innalzamento professionale delle capacità. I paesi che possono partecipare. Adesso c'è da fare alcune specifiche, poi comunque potrete vedere tutto in dettaglio all'interno della guida. Come vedete, ho messo anche delle note. I paesi partecipanti, in generale, come coordinatore sono i membri dell'Unione Europea, i paesi terzi associati al programma. Poi abbiamo i paesi terzi non associati, che per i K220, cioè i partenerati di cooperazione, possono prendere parte alle azioni come partner strategici o partner comunque delle azioni, grazie a degli accordi bilaterali, che sono tutti quanti visionabili e citati appunto nella guida. Fate attenzione a questi paesi che sono sempre, scusate, i paesi terzi non associati al programma, che possono, come la Svizzera o l'Inghilterra, che sono al di fuori di questi accordi, ma in alcuni casi, per i progetti di i partenerati di cooperazione, possono prendere parte sempre oltre, diciamo, i coordinatori e partner dei soggetti, secondo degli accordi e secondo una valenza, diciamo un valore anche a riguardo della loro partecipazione. Il progetto in generale, quindi sia per gli small scale, cioè i progetti di piccola scala che i progetti di cooperazione, devono avere un set specifico che parte dalla pianificazione, quindi una buona analisi dei bisogni che poi viene valutata in fase di valutazione, quindi attenzionare proprio qual è il bisogno principale al quale si vuole dare risposte e anche gli obiettivi, trasformarlo in una pianificazione delle attività, ora più in là vedremo appunto cosa significa costruire un work package e cosa deve contenere, tutto questo lo trovate sempre nella guida e nell'handbook, come dicevo, e trasformare quindi tutta la pianificazione in un'implementazione delle attività e farle diventare, cioè autovalutarsi e darsi una valutazione anche di quelle che sono i risultati, gli impatti dei risultati. Queste sono le tematiche invece strategiche al quale bisognerebbe appunto dare, cioè scegliere una di queste e dare anche un assetto rispetto a tutto il progetto e quindi permeare come appunto qui vediamo tutte le attività, cioè non dimenticare mai di stare su quella tematica o su più tematiche strategiche e queste si devono evincere anche dalle modalità di gestione, cioè faccio un esempio la sostenibilità ambientale, l'utilizzo appunto di risorse che permettono un minore impatto ambientale, l'utilizzo di un aspetto appunto che riduce i costi e quindi una maggiore sensibilizzazione anche rispetto ai risultati. Ora andiamo nello specifico sulle azioni appunto partenariati di cooperazione K220, cosa hanno nello specifico, cosa mirano? Mirano appunto ad aumentare la qualità del lavoro e delle attività, sviluppare le capacità delle organizzazioni a livello transnazionale, è questo diciamo l'obiettivo in generale poi di tutta l'azione, cioè quello di cercare di portare a un livello nazionale ma anche transnazionale la cooperazione e quindi una maggiore connessione in modo tale da avere un impatto non solo, è una ricaduta non solo su chi partecipa poi al progetto ma anche a una dimensione più orizzontale. Affrontare le esigenze e le priorità come abbiamo detto è facilitare la trasformazione e il cambiamento sia nel settore digitale sia nel settore ambientale ma anche nei settori poi che vengono sviluppati dal progetto e quindi un cambiamento anche rispetto alla qualità dell'apprendimento. Questo porterebbe quindi al trasferimento e all'applicazione di pratiche innovative ma soprattutto alla creazione di risultati che devono essere appunto trasferibili, che devono essere riutilizzabili e anche trasdisciplinari, cioè che possano toccare diversi settori. Qual è la specifica dei partenariati di cooperazione? Devono avere minimo tre organizzazioni partecipanti di tre paesi diversi, quindi non massimo ma minimo, più ovviamente grande il partenariato e quindi i paesi coinvolti e chiaramente più si devono intersecare le varie specifiche. I partner associati ci possono essere, possono partecipare e chi sono i partner associati? Sono quelli che non prendono parte diciamo al finanziamento ma che contribuiscono alla realizzazione del progetto attraverso magari la messa a disposizione di servizi, di risorse, di aule per esempio. Insomma il cofinanziamento può essere inserito grazie appunto ai partner associati. Poi gli altri partner possono essere quelli non associati al programma, come dicevo poco anzi quando abbiamo presentato i paesi e diciamo ovviamente la loro partecipazione deve essere giustificata, cioè deve apportare un valore aggiunto e non so magari sono portatori di interesse o di know-how che possono dare appunto un significato e un qualcosa in più al progetto. La durata di questi progetti va da 12 mesi a 36 mesi. L'inizio dell'attività ovviamente sarà prevista tra il primo settembre e il 31 dicembre. Le sedi possono, allora in generale si preferisce le organizzazioni che partecipano al progetto. Poi ovviamente se giustificato si possono utilizzare le istituzioni europee e altri paesi del programma, paesi terzi che magari fanno parte a quel partenariato e in cui si possono attivare le cosiddette attività di disseminazione e eventi. La gestione del budget come appunto hanno presentato oggi pomeriggio è fatta dal coordinatore e viene, è previsto diciamo già dalla candidatura, quindi viene impostato già così la candidatura e si parla appunto di l'AMSAM e la scadenza è quella del 23 marzo. Quali sono gli aspetti che dovete valutare per cui il progetto poi deve essere appunto strutturato? Quello della valutazione appunto sulle candidature, la pertinenza prima di tutto, cioè ovvero se è stata fatta una buona analisi dei bisogni e se questi sono stati implementati poi a livello di obiettivi e di attività e la qualità dell'elaborazione come vedete ha un punteggio più alto in cui proprio si evince la metodologia e la struttura degli obiettivi e delle attività e quindi dei set, pacchetti di attività che sceglierete per fare in modo di poter realizzare quel tipo di progetto. La qualità del partenariato, anche questo è importantissimo perché dalla distribuzione, dalla giusta distribuzione appunto si evince magari un impatto diverso e questo fa sì che possiate prendere dei punti maggiori sulla parte del partenariato e l'impatto che diventa una voce a sé perché l'impatto è importantissimo riguarda tutte le attività e soprattutto quelle di disseminazione e di diffusione dei risultati e della valorizzazione anche dei risultati stessi. Bisogna prendere un minimo di 60 punti e almeno la metà dei punti in ciascuno dei quattro criteri. Quali sono gli importi forfettari? Li vedete qui mostrati. State attenti a scegliere l'importo diciamo corretto per quello che è il set, per quello che è poi la strutturazione del vostro progetto perché non si potrà essere valutati poi per un importo forfettario minore, nel senso che il valutatore va a valutare quello che è importo che avete scelto. Non è che poi magari una parte non viene valutata e si passa all'importo inferiore. Quindi bisogna fare attenzione quando si costruisce e quindi si presenta una proposta perché bisogna che poi sia coerente e usi in maniera efficiente i fondi scelti. E poi appunto avevo detto già prima il discorso del cofinanziamento che può essere visto come un surplus che apporta valore al progetto stesso. Qual è la metodologia da seguire? Questo diciamo è un quadro molto semplice di quelle che è la concatenazione poi delle attività ma anche di tutte le... l'assetto della progettazione. Si parte appunto dalla metodologia, poi si va sulla distribuzione dei compiti, gli accordi finanziari, la timeline che è importantissima perché poi deve essere eseguita. Cioè un progetto ha un organigramma e ha dei momenti specifici dove vengono sviluppate le azioni. Quindi bisogna poi insomma rispettare quanto più possibile escludendo poi tutto quello che può capitare. Vedi covid, vedi situazioni in cui magari c'è un piccolo slittamento però in generale bisogna rispettare quella timeline. Il pacchetto del management poi lo vedrete anche sia nell'handbook che in tutte le altre guide. Insomma bisogna inserire questo come pacchetto base che copre il massimo del 20% del budget ed è da considerarsi appunto un aspetto orizzontale su tutto il progetto. Quindi molto importante da costruire come primo work package che sarebbe un set di azioni. Come si costruiscono? In questo caso bisogna concatenare quindi il budget, agli obiettivi, alle attività, agli indicatori scelti per ogni pacchetto che poi ci danno il risultato di un'autovalutazione. ovviamente questa autovalutazione viene fatta sulla base degli indicatori che riguardano proprio la misurazione del valore in vista della realizzazione di un obiettivo o di una strategia da compiere per ogni set di azioni. Gli indicatori possono essere di due tipologie quantitativi e qualitativi. Vi ho messo alcuni esempi che possono essere eseguiti ma ovviamente ce ne sono tanti altri. c'è proprio una metodologia specifica di costruzione degli indicatori e anche quelli li potete trovare nei documenti ufficiali soprattutto nell'handbook. Andiamo ai partenariati su piccola scala che sono più ridotti in termini di quantità di LAMSAM. Ovviamente sono importi inferiori, la durata è più breve e quindi più semplici a livello di gestione amministrativa. I partenariati su piccola scala hanno l'obiettivo di introdurre nuove organizzazioni, nuove organizzazioni che però fanno parte e magari possono crescere nel settore dell'istruzione, della formazione, dell'educazione, insomma che sono focalizzati comunque a specializzarsi o aumentare le proprie capacità. Poi supportano anche l'inclusione dei target di minore opportunità, infatti molto spesso si parla di inclusione in questo senso, ovvero di magari soggetti che non sono coinvolti inizialmente che possono prendere parte a questo tipo di progetti. L'altro è quello di promuovere la cittadinanza attiva e anche una dimensione europea, quindi anche un supporto a quello che poi viene chiamata formazione permanente. Quali sono le specifiche invece di questi progetti di piccola scala? Sono progetti più piccoli ovviamente quindi fatti solo da riorganizzazioni di due paesi diversi, come minimo ovviamente, si possono ovviamente prevedere per attenariati anche più ampi. Qualsiasi tipo di organizzazione attiva proprio nel campo dell'istruzione è proprio questa l'idea, cioè far entrare anche nuove organizzazioni che siano focalizzate su questo settore. Non è possibile far partecipare i paesi non aderenti al programma e anche avere partner associati. Sono progetti più piccoli che vanno da 6 a 24 mesi, le sedi sono quelli appunto dei partner o delle istituzioni europee, sempre se giustificato. Anche qui c'è il discorso del contributo unitario, l'AMSAM, che viene gestito interamente dal coordinatore. Fate attenzione perché appunto poi il coordinatore farà degli accordi con i partner per poter gestire internamente, quindi poi seguire il progetto e poterlo sviluppare. I due appuntamenti, diciamo, i due round sono il 23 marzo e il 4 ottobre, sempre con inizio per il primo round, il primo settembre, il 31 dicembre, il secondo round, primo gennaio e 31 agosto. Anche qui ci sono dei criteri di valutazioni, vi consiglio poi di andarli a vedere attentamente nella guida, dove sono ben spiegati, perché è veramente da quello che poi si fa la differenza, quindi bisogna partire proprio da quali sono le valutazioni finali della proposta. Anche qui c'è un minimo di 60 punti e un minimo della metà dei punti per ogni voce. Qui parliamo invece di due contributi forfettari, 30.000 e 60.000. Anche qui stesso discorso, bisogna scegliere bene la fascia e stare dentro quella fascia, non si può chiedere né di più né di meno e bisogna anche concorrere poi solo per quella. Il coordinatore gestirà tutta l'ammontare del finanziamento. Quali sono i requisiti delle proposte? Appunto parlavamo di pacchetto in generale, set di azioni che devono avere ognuno un proprio obiettivo, delle attività e risultati di progetto e questi devono essere chiaramente collegati e coerenti fra di loro per poter appunto utilizzare tutto l'importo forfettario che si richiede. Quali attività possono essere incluse? Ovviamente quella di project management che io ho inserito, ma questa diciamo ci deve essere come pacchetto base. Le attività di disseminazione importantissime, ora vedremo il perché. Attività di apprendimento, insegnamento e formazione, incontri di progetto, insomma tutte quelle cose che riguardano poi il settore di riferimento. La disseminazione perché è importante, copre tutto l'arco di vita del progetto e crea diciamo quelli che poi sono i risultati, cioè grazie alle azioni di disseminazione possiamo diffondere risultati che devono essere trasferibili come dicevo poco anzi, devono essere appunto riutilizzabili e anche possono avere delle ricadute al di fuori del partenariato stesso, quindi devono essere utilizzati anche in maniera efficace. Per questo ci vuole una valorizzazione dei risultati che non è solo la pubblicazione nel proprio sito, ma bisogna proprio quanto più diffondere i risultati del progetto in modo tale che possano arrivare anche a altri paesi, a altri settori e quindi come si fa? Coinvolgendo appunto destinatari, soggetti interessati, portatori di interesse, stakeholders, condividendo la conoscenza e l'esperienza e creando nuove collaborazioni dal quale poi magari potrebbero crearsi nuovi progetti, nuove proposte. La piattaforma dal quale potete prendere ispirazione e seguire diciamo i progetti degli altri anni o quelli magari che sono adesso sviluppati sono la School Education Caretway e Epale di cui vi parlerà la nostra collega Martina Blasi. Grazie per l'attenzione, siamo a disposizione, insomma questi sono i nostri numeri del settore, bisogna che quando scrivete specificate anche il progetto se poi l'avete in atto oppure sull'oggetto della mail magari la specifica della richiesta. Grazie mille per l'attenzione. Vado a condividere lo schermo. Aspetta, sì, buongiorno un attimo che... Aspetta, sì, però non ha schermo intero. Aspetta, sì, ecco, o lei ce l'ho fatta. Perfetto, buongiorno a tutti, sono Martina Blasi dell'Unità Epale Italia e vi farò una breve panorata su questa piattaforma, Epale per l'educazione degli adulti, la piattaforma europea per l'educazione degli adulti, strumento ufficiale della Commissione per il sostegno alle politiche e anche strumento ufficiale per il sostegno alla progettazione Erasmus. Quindi, che cos'è Epale? Lo abbiamo appena detto, è una piattaforma elettronica, è una community, è una community multilingue e si rivolge a tutti coloro che lavorano nel settore, quindi docenti, educatori, formatori, volontari, gli operatori del terzo settore, ricercatori e quant'altro. Si rivolge quindi all'intero mondo dell'educazione degli adulti, quindi sia al settore formale che al settore non formale e al settore informale. La piattaforma è stata recentemente, nel mese di aprile del 2021, quasi un anno fa, è stata riprogettata, in modo da essere più dinamica, più intuitiva e anche adesso è più ricca di strumenti che l'avvicinano alla progettazione Erasmus e più ricca di, appunto, nuovi spazi per lo scambio delle idee e per l'interazione tra gli utenti. Quindi, offre veramente tante possibilità. Le possibilità di apprendere, quindi apprendere e di informarsi su quanto accade nel settore dell'educazione degli adulti, in Europa, in Italia e anche nei singoli paesi. Offre, iscrivendosi, la possibilità di pubblicare, cioè di contribuire pubblicando notizie, blog, eventi, risorse, eventi e voglio sottolineare che tutti i contenuti che sono pubblicati in piattaforma vengono controllati dalle singole umanze nazionali del paese nella cui lingue vengono pubblicate. Per cui noi, come unità epale che, appunto, operiamo all'interno dell'agenzia Erasmus, controlliamo la qualità, la pertinenza di tutto ciò che, appunto, viene pubblicato in piattaforma. Oltre noi stessi, naturalmente, a pubblicare contributi che hanno a che fare con tutto quanto è pertinente ed è essenziale da pubblicare per quanto riguarda, appunto, ciò che succede in Italia. È possibile collaborare e fare rete perché, come ho già detto, ci sono numerosi spazi collaborativi e altri sono stati recentemente introdotti. È possibile formarsi e quindi accedere a numerose risorse e poi, per quanto riguarda il progetto, il programma Erasmus, io sento però... ...un rumore... ...qualcuno che parla... ecco. Per quanto riguarda il programma Erasmus, è possibile cercare partner e attività per i progetti Erasmus e spazi di lavoro condivisi sempre proprio focalizzati ad Erasmus per i progetti Erasmus. Erasmus è una piattaforma che va crescendo ed ha già raggiunto oltre 100.000 utenti. Tutti i contenuti, i vasti, la vasta gamma di contenuti della piattaforma ruotano intorno a tre sezioni che sono accessibili dal menu in home page e che sono... La prima sezione è collabora. Io qua, in questa slide, ho voluto evidenziare cosa in ogni sezione potete trovare che sia particolarmente utile per coloro che appunto stanno progettando all'interno del programma Erasmus. Dentro la sezione collabora, che è la sezione che promuove appunto la cooperazione, come la progettazione, lo scambio delle idee, dentro questa sezione trovate il cerca partner ufficiale del programma Erasmus, ovvero potete trovare le organizzazioni che sono interessate ad avviare progetti di partenariato o anche di mobilità. Come iscritti alla piattaforma, potete anche voi stessi pubblicare la vostra ricerca partner. Questo è veramente molto importante. Tra l'altro, quando voi vi recherete in piattaforma, vedrete che è possibile fare una ricerca molto accurata perché ci sono naturalmente diversi filtri che permettono di affinare la ricerca fino ad arrivare appunto al partner che stiamo cercando, l'idea di partner che stiamo cercando, perché si può cercare per paese, per tipo di progetto, per tematica e così via. Dentro sempre la sezione collabora, sono anche tutte le organizzazioni che operano il settore dell'educazione degli adulti in Europa. In questo caso anche voi potete promuovere la vostra organizzazione se lo desiderate, perché appunto Epale ha sempre questa doppia funzione, permette sia di informare che di promuovere anche, cioè sia di avere un'informazione che di promuovere le proprie attività, la propria organizzazione e quant'altro. Inoltre, sempre dentro la sezione collabora, ci sono gli Erasmus Space. In questo caso siamo, l'Erasmus Space è un vero e proprio spazio di lavoro dedicato ai coordinatori del progetto e ai partner. Qua trovate uno spazio di lavoro in cui potete seguire e implementare tutte le fasi del progetto, quindi il monitoraggio, la dissimilazione dei risultati e così via. Quindi non solamente per l'avvio della progettazione, ma già per ogni step del ciclo di vita del progetto. Quindi è uno spazio di lavoro privato. Io vi ho indicato solo questi perché sono proprio specifici per Erasmus, ma nella stessa sezione collabora ci sono tanti altri spazi pensati proprio per la collaborazione, come gruppi di nuovo di lavoro online privati, gruppi invece più aperti per le discussioni tematiche. Quindi ci sono tanti spazi per l'interazione. Nella sezione contribuisci invece è possibile cercare eventi, oppure eventi, questo per esempio è molto utile per l'azione chiave 1, quindi potete cercare eventi di formazione, job shadowing, seminari, no? Sempre, in ogni sezione ci sono dei filtri appositi che vi permettono di affinare la ricerca. Quindi che tipo di evento, in quale paese e così via. Inoltre nella sezione contribuisci ci sono le notizie, ci sono i blog, le risorse, no? Quindi c'è l'informazione sul settore dell'apprendimento degli adulti. Ripeto, in Italia, in Europa o nei singoli paesi. E anche in questo settore, quindi è possibile, anche per questo settore, è possibile informarsi o informare pubblicando i propri contenuti. Infine, questa sezione, la sezione apprendi, questa invece è una sezione totalmente nuova. È una sezione totalmente nuova perché riguarda proprio la formazione. È stata molto implementata. precedentemente, diciamo, nella precedente versione della piattaforma, esistevano solo le risorse e i casi studio c'erano. Invece adesso diventa proprio una sezione che vuole sviluppare le competenze di coloro che appunto sono gli utenti della piattaforma. Quindi, oltre a risorse e casi studio, è possibile trovare anche corsi online gratuiti, OIR, risorse educative e didattiche, documenti sulle politiche. Quindi, veramente una vasta gamma di materiale per la formazione. Ecco, quindi questo più o meno sono, diciamo, queste più o meno sono le cose principali e avete visto gli spazi in cui appunto sono distribuiti tutti i contenuti di Epale. Ci sono poi, è possibile poi anche fare una ricerca tematica, oltre che per tipologia di contenuto, e poi, infine, ci sono anche dei focus tematici che vengono, che sono un po' al centro dell'attenzione dei contenuti per l'anno in corso. Ma vi invito a scoprirli voi stessi visitando la piattaforma che sicuramente sarà un grosso supporto per il vostro lavoro. E vi ringrazio. Buon pomeriggio a tutti. Sono Angela e oggi vi parlerò del modulo di candidatura per partecipare alle call del 2022 per quanto riguarda i partenariati di cooperazione K220 e i partenariati su piccola scala K210. Un ottimo che partiamo con la presentazione. Prima di addentrarci nella compilazione del modulo di candidatura, vorrei fare un cenno alle risorse e agli strumenti utili per poter procedere a una buona e una corretta compilazione. Andando sul sito erasmusplus.it nella sezione educazione degli adulti, risorse e strumenti troverete tutto quello di cui avete bisogno. Innanzitutto la guida al programma in alto a sinistra, il modulo di candidatura da applicare per procedere alla compilazione del modulo di candidatura, l'helpdesk, quindi un aiuto qualora abbiate bisogno dell'Agenzia Nazionale con tutti i nostri contatti. Nei prossimi giorni verrà caricata la videoregistrazione di questa giornata e la possibilità di scaricare il modulo dettagliato per quanto riguarda i partenariati di cooperazione e per quanto riguarda i partenariati su piccola scala, in modo tale da supportarli attraverso questo PDF alla corretta compilazione del modulo passo dopo passo. Inoltre ricordiamo le scadenze, come aveva già detto la nostra collega, il 23 marzo per i partenariati di cooperazione e il 23 marzo e 4 ottobre per i partenariati su piccola scala. Non è necessario che iniziate a screenshotare i link o tutto quello che potrebbe servirvi utile o prendere appunti perché ritrovate tutto all'interno del sito di Erasmus+. Cliccando su un modulo di candidatura vi comparirà questa schermata come fare la domanda con tutti i link veloci e utili per poter procedere senza sbagliare. Innanzitutto, per poter presentare una candidatura è necessario essere in possesso di un account e un login. Se non ne avete uno, effettuate la registrazione. Se invece già lo avete, dovete soltanto effettuare il login. Una volta entrati all'interno del single entry point che è un unico punto di accesso proposto dalla Commissione Europea per poter avere tutto a disposizione in un'unica piattaforma andrete su Opportunities e cliccherete su Erasmus. Vi comparirà questa schermata dovete cliccare su Adult Education, see Open Call e successivamente vi compariranno le due call aperte partenariati di cooperazione o partenariati su piccola scala a seconda della tipologia di programma al quale voi volete partecipare e cliccate su Apply. All'interno si aprirà immediatamente la schermata di compilazione. Tutti i campi contrassegnati con l'asterisco rosso sono obbligatori. Quindi se non verranno completati e compilati tutti quanti non sarà possibile effettuare la submission. Non vi comparirà proprio il pulsante che vedete oscurato in alto a destra. È possibile riprendere una candidatura in qualsiasi momento quindi potrete lasciarla, riprendere successivamente quando volete proprio perché il salvataggio avviene in maniera automatica ad ogni piccola modifica. Per poter riprendere la candidatura una volta che siete usciti andate su Application e poi cliccate su My Application vi compariranno tutti i vostri salvataggi. Nella sezione Contest per prima cosa dovete scegliere la lingua di compilazione del form. Averete a disposizione un menu a tendina con tutte le lingue disponibili. Potrete scegliere l'italiano come l'inglese. È indifferente, l'importante è che sia identico e uguale per tutto il web form. Ricordiamo che per alcune sezioni sarà necessaria una traduzione in lingua inglese. Altra caratteristica, oltre a quella della oltre alla scelta della lingua è quella di selezionare l'agenzia nazionale in questo caso la nostra sempre dal menu a tendina IT02, agenzia nazionale Erasmus Plus e sotto troverete la possibilità di selezionare il Lamsam quindi il budget forfettario adatto al vostro progetto. Ricordiamo che per quanto riguarda i partenariati su piccola scala le Lamsam a disposizione sono 30.000 euro o 60.000 euro e invece per quanto riguarda i partenariati di cooperazione la scelta va sui 120.000 euro 250.000 euro o 400.000 euro. la scelta di uno rispetto all'altro deve essere commisurata agli obiettivi e ai risultati che si vogliono raggiungere nell'interno del vostro progetto quindi non è necessario puntare su una piuttosto che un'altra non si verrà penalizzati se si sceglie una piuttosto che un'altra. Nella sezione invece Participant Organization ci saranno tutta la sezione legata alle organizzazioni partecipanti come ha già detto la collega Stefania precedentemente per quanto riguarda la cooperazione su piccola scala quindi KA210 è necessario che ci siano un minimo di due partner diversi per quanto riguarda i partenariati di cooperazione è necessario che siano almeno tre partner tutti i partner devono partire per quanto riguarda la compilazione del modulo di candidatura scrivendo il loro codice OID che è obbligatorio per ricevere il finanziamento nell'ambito del programma Erasmus se non avete un codice OID è necessario effettuare la registrazione se invece possiedete un codice OID o lo avete partecipato in passato o avete un vecchio codice PIC non richiedete un nuovo codice OID è necessario se non riuscite per qualsiasi problematica a non recuperarlo contattateci personalmente e troveremo una soluzione per poter recuperare questo codice OID inoltre attraverso questa sezione Search for your organization potrete cercare anche attraverso il nome del vostro ente della vostra organizzazione qual è il codice OID associato inoltre sempre in questa sezione Participant Organization dovrete inserire la persona di contatto e il rappresentante legale per ogni partner e per l'organizzazione coordinatrice è necessario che la persona di contatto e il rappresentante legale siano diversi e che i contatti per quanto riguarda il numero di telefono e le mail non siano email o contatti generici ma che siano specifici di una persona che costantemente controlla la posta elettronica o che risponde al telefono in modo tale da poterli contattare qualora sia necessario da parte della nostra organizzazione dell'Agenzia Nazionale nella sezione invece Project Summary si potrà racchiudere con un minimo di 500 parole l'essenza del progetto è necessario che questa parte sia necessariamente in inglese è obbligatoria la traduzione qualora voi avete deciso di utilizzare non solo l'italiano come lingua di compilazione del modulo in questa sezione vi chiederanno una traduzione obbligatoria in inglese nella sezione Annexi invece sarà possibile scaricare far firmare e successivamente riallegare all'interno della stessa struttura sia la dichiarazione d'onore firmata dal rappresentante legale sia i mandati che devono essere firmati sia dal rappresentante legale delle organizzazioni partner che dal rappresentante legale dell'organizzazione coordinatrice non utilizzate template presi da altre annate presi da altre call è necessario che li scarichiate necessariamente da questo form e che una volta firmati li riallegate alla stessa maniera una volta compilato il tutto vedrete che ci saranno delle spinte verdi sulla sinistra questo vuol dire che avete inserito tutti i campi obbligatori dovrete spuntare attraverso questa checklist spunterete queste tre caselline che sono una sorta di reminder e lì si aprirà la possibilità di effettuare la submission come vedete in alto a destra nel pulsante in ogni momento prima della scadenza ufficiale sarà possibile riaprire modificare la candidatura già inviata cliccando su reopen vi consiglio di non arrivare all'ultimo giorno per poi non per poi trovarsi in situazioni in cui magari il sito non funziona è sovraffollato quindi procedete quanto prima a iniziare con calma questa procedura di compilazione del modulo e qualora non siate sicuri avete la possibilità comunque di riaprirlo nella sezione history invece sarà possibile verificare tutte le submission che si sono inviate alla nostra agenzia e noi prenderemo come submission ufficiale l'ultima ovvero quella che ha la data prima della scadenza alla scadenza della call per qualsiasi cosa non esitate a contattarci abbiamo qui i numeri di telefono l'help desk telefonico siamo martedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.30 il mercoledì dalle 14 alle 16 i nostri numeri e la mail per qualsiasi richiesta informazione vi ricordiamo che è possibile sempre nella sezione risorse e strumenti trovare tutti i link utili per poter procedere la submission per poter procedere la compilazione e poi la submission tutte le guide dettagliate passo per passo la giornata di oggi registrata all'info day e vi ringrazio per aver partecipato a questa giornata adesso si aprirà a breve la possibilità di inviare delle domande avete 10 minuti a disposizione e cercheremo di rispondere per quanto possibile vi ringraziamo allora buonasera abbiamo raccolto le vostre domande adesso rispondiamo cerchiamo di rispondere a tutte le domande una per una io sono Nicolo Bani mi presento settore K2EDA ovviamente ok poi vediamo se c'è tempo magari valutiamo se aprire un'altra volta la session diciamo per le question and answers allora comincerei con la domanda 2494 c'è la possibilità per lo secondo round ad ottobre anche per K220 allora la risposta è no nel senso per ora la guida non lo prevede quindi no allora domanda 2495 si può creare un intero work package di disseminazione e sostenibilità per la K220 allora direi di sì nel senso che questo dipende sempre da come strutturate voi il vostro progetto però in linea di principio sì anzi forse è consigliabile a meno che per ragioni di struttura del progetto non preferiate diciamo prevedere un'attività di disseminazione specifica all'interno di ciascun work package ok in quel caso lì chiaramente voi non create un work package ma splittate le attività di disseminazione per ciascun work package che individuate e quindi è un altro modo di affrontare la questione chiaramente è molto importante prevedere un budget per questo tipo di attività all'interno dei progetti RASBUS questo da sempre ok passiamo alla domanda successiva due quattro nove e sei salve quindi nell'application form di quest'anno non saranno presenti LTT activities e multiplier events no questo erano diciamo le categorie di budget del programma precedente e anche della K220 2021 che in qualche modo ricalcava diciamo le modalità del del vecchio programma da quest'anno dalla K22022 è proprio un altro mondo e K220 si diciamo concettualmente si avvicinano a quella che era già nella nella K precedente la progettualità dei K210 quindi l'AMPSAM questo naturalmente dà una maggiore libertà diciamo di strutturazione del progetto ma naturalmente come molti di voi probabilmente hanno già rilevato prevede anche di cambiare un po' l'approccio allora domanda 2497 è possibile considerare costi per l'organizzazione di meeting ex national meeting training events eventi di disseminazione allora ovviamente sì nel senso che non esistono più come categorie specifiche quindi diciamo bloccate nella loro tipologia ma è possibile comunque crearne all'interno dell'attività quindi se voi create all'interno di work package delle attività dei meeting sotto forma di attività o dei training events sotto forma di attività o degli eventi di disseminazione è esattamente la stessa cosa diciamo da un punto di vista concettuale ok chiaramente cambia tutta l'idea di fondo cioè non c'è più la categoria specifica con la regola di finanziamento specifica ma c'è l'AMSAM allora domanda 2498 per il calcolo dell'AMSAM si devono usare costi reali allora direi in linea di principio sì però questa è una valutazione che dovete fare voi nella guida specificata che voi dovete sulla base dei costi che calcolate che stimate fate voi una stima su quindi su dei principi che adottate voi che può essere tendenzialmente dovrebbe essere quello dei costi reali visto che non ci sono più contributi unitari standard diciamo voi poi scegliete quella che è la l'AMSAM più confacente a quella che voi stimate essere la spesa a cui andate incontro quindi tecnicamente sì cioè voi dovete valutare in base a costi reali poi se voi per motivi vostri di praticità valutate di utilizzare dei contributi unitari lo potete fare la guida al programma non specifica quindi all'interno della nuova call non ci sono dei riferimenti standard la guida al programma non specifica che dobbiate fare in un modo o in un altro siete voi che stimate poi chiaramente la stima di questi costi rispetto a quindi del budget che richiedete poi rispetto all'attività che poi andate a dichiarare viene valutata ok la coerenza la congruità ok domanda 2499 suggerimenti per la compilazione del budget la divisione dell'attività per ogni WP work package ovviamente allora no nel senso che beh allora nel senso se avete delle domande specifiche ce le potete fare ma fondamentalmente si tratta di come dire di come avete in mente voi di strutturare il vostro progetto ok quindi la grossa diciamo il grosso salto concettuale è proprio questo rispetto alla hold 2021 del K420 al vecchio programma allora domanda 2500 è consigliato possibile inserire un work package su comunicazione e disseminazione o è compreso all'interno del work package obbligatorio di management e nel caso i multiplier events vengono compresi sempre nel work package di management concorrendo alla quota del 20% della LAMSAM complessiva allora consigliabile consigliato allora non formalmente consigliato inserire un work package comunicazione e disseminazione di questo abbiamo già discusso prima sì può essere un'idea chiaramente allora dovete sempre tenere presente che la fase di comunicazione e disseminazione nell'ottica dei progetti Erasmus è fondamentale diciamo di tutti i progetti io parlando di Erasmus sottolineo questo chiaramente quindi sì può essere diciamo direi che è molto importante prevedere un'azione di comunicazione e disseminazione può essere un work package dedicato sì se avete in mente di strutturarlo in più azioni questa diciamo questo work package di disseminazione certo se invece preferite potrebbe essere un'idea che splittarlo diciamo se ragionate diciamo girando concettualmente il progetto e ideate identificate dei work package su una base differente questa è una valutazione che dovete fare voi può essere inserito splittato come azione all'interno dei work package come ho già detto allora o è compreso all'interno del work package obbligatorio di management allora questa cosa lo diciamo subito perché è una domanda che mi pare ricorrente l'ho già sentita insomma no nel senso che disseminazione è un'attività rivolta all'esterno quindi management il management è un'altra cosa riguarda la comunicazione interna eventualmente può essere inserita nel management stessa cosa per gli eventi moltiplicatori che veniva chiesto vanno inclusi nel management ma direi proprio di no perché ovviamente no insomma gli eventi moltiplicatori cosiddetti insomma usando la terminologia dell'anno scorso del vecchio programma non sono attività interna diciamo al partenariato di gestione per così dire di management per l'appunto è un'attività rivolta all'esterno quindi è opportuno inserirla in work package o dedicati o splittarlo nei vari work package come fase come attività definita all'interno dei work package allora domanda 2501 l'anno scorso abbiamo avuto la brutta sorpresa di vedere i file stampati dei formulari compilati e inviati da apposito bottone online non mantenevano alcun tipo di formattazione neanche gli a capo per non parlare dei punti elenco questo problema è stato risolto grazie questo problema non dipende da noi purtroppo i tool del nuovo programma sono ancora in corso di sviluppo diciamo di perfezionamento diciamo che essendo una generazione in automatico del form l'agenzia nazionale non può agire chiaramente noi segnaliamo costantemente all'ufficio tecnico all'health desk tecnico della commissione europea questi problemi queste difficoltà però poi di fatto non possiamo agire direttamente noi segnaliamo chiaramente poi col tempo queste diciamo imperfezioni vengono perfezionate risolte limate insomma vi chiediamo di avere pazienza insomma è tutto nuovo quindi diciamo anche i tool sono in via di messa a punto d'accordo allora 2502 con le nuove Lamp Sam non ci sono più delirate diverse per ogni paese giusto per delirate immagino che si intendano le giornate uomo che si utilizzavano per il calcolo dei vecchi intelletto all'output allora no la risposta è no perché non ci sono più i contributi unitari tecnicamente ok quindi tant'è allora domanda 2503 azione K1 capofila consorzio azione K2 partenerato scuola adulti sono compatibili grazie cosa si intende per sono compatibili se è possibile presentare un'application in chiave 1 come capofila e contemporaneamente in chiave 2 come partenariato in un partenariato di scuola o adulti lo potete fare come organizzazione certamente poi se si intende invece di mescolare i fondi di un progetto chiave 1 con un progetto chiave 2 ma non credo sia questa la domanda ovviamente no perché c'è rischio concreto di double funding allora 2506 quale metodologia è raccomandabile per stimare budget mesi uomo con che rate si devono dare poi indicazioni nella proposta di tali date giustificativo del budget richiesto grazie allora quale metodologia è raccomandabile ve l'ho già ho già risposto non c'è una metodologia diciamo definita tecnicamente dovete stimare voi quello che sono le spese a cui andate in conto quindi costi reali presumibilmente insomma è una valutazione che fate voi mesi uomo con che rate questo se voi invece optate per una forma diciamo di contributo unitario può essere anche questo un modo però non saprei dirvi quali sono questi riferimenti perché non ci sono dei riferimenti da parte diciamo nei ufficiali per i progetti Erasmus vanno indicati come giustificativo del budget richiesto nell'application no ok è una stima che fate voi e poi chiaramente noi leggiamo soltanto cioè il valutatore legge e valuta quelle sono le attività che voi prevedete con quel budget di svolgere ma non vuole sapere in base a cosa voi avete calcolato che vi costa tot allora 2507 è possibile partecipare a un partenariato small scale anche se in passato si è già vinto un progetto Erasmus Plus si tratterebbe comunque di piccole organizzazioni beh sì nel senso cioè avete avete già un progetto in corso volete partecipare di nuovo alla call sugli small scale se pure avete partecipato a un progetto small scale l'avete vinto volete partecipare a un altro progetto sì chiaramente che non si non è non è ambissibile essere lo stesso progetto se è un progetto finanziato e volete chiedere finanziamento per un altro progetto small scale lo potete fare il progetto chiaramente deve essere diverso ok quindi domanda 2508 si possono includere le exceptional cost mobilità e la TTA nei work packages ma allora queste categorie di budget sono quelle che afferiscono al vecchio programma nei work packages voi diciamo dichiarate delle attività che alle quali poi viene associato viene diciamo viene definito il budget per ciascuna di queste attività e vanno a formare poi il budget complessivo del work package e poi del budget totale voi voi queste attività le potete anche diciamo pensare come mobilità come le TTA anche come un costo eccezionale nel senso se intendete che avete bisogno di una cifra specifica per l'acquisto di determinato materiale utile al raggiungimento dell'obiettivo del work package certamente sì quindi le attività possono assumere queste forme 2509 nella guida Erasmus Plus pagina 214 ci viene scritto che è necessario includere la comunicazione all'interno del work package del work package dedicato al management come ho già detto si tratta di comunicazione interna potete chiarire se questo vuol dire tutto ciò che concerne la dissemination del progetto deve essere coperto da work package 1 oppure se è consigliabile inserire un work package dissemination separata come avviene normalmente in altre tipologie di bandi questa domanda è già stata fatta diverse volte allora nel work package di management non si parla di disseminazione si parla di comunicazione interna al partenariato la disseminazione è un'attività svolta all'esterno quindi dedicateli un work package dedicateli delle attività nei vari work package allora 2 5 di Esci nella guida viene raccomandato di non aprire più di 5 work package incluso quello di project management già presente di default quindi non più di 4 nuovi work packages questo limite è tassativo allora leggendo la guida direi di no nel caso in cui venisse reperti 5 nuovi work package questo potrebbe compromettere l'approvazione del progetto grazie quindi 5 work package in più o si intende 5 più quello di project management non lo so però il concetto è che il limite non è tassativo ma è fortemente consigliato questo perché cioè non è motivo di esclusione sicuramente aprire un work package in più almeno per quelle che sono per quello che si può leggere nella guida ma è fortemente consigliato di non moltiplicare a dismisura i work packages perché perché i work packages sono delle macro aree diciamo quindi dei set di attività come vengono definiti nella guida macro nel senso al cui interno voi dovete definire quali sono le attività vi serve a voi per fare un ordine diciamo all'interno della della diciamo del progetto il rischio di aprire molti work package è di disperdere frazionare troppo quello che è l'attività di progetto nel suo insieme quindi è per questo che è fortemente sconsigliato di aprire un numero superiore di work package ok concentratevi su quelli che sono diciamo queste macro aree definite all'interno di queste macro aree le attività le attività non hanno un limite predeterminato diciamo serve a voi per i work package servono a voi per chiarire chiarirvi le idee su come deve essere strutturato il progetto quindi evitate non è tassativo ma evitate di aprirne troppi allora più di 5 insomma più di 5 compreso il project management allora 2.5.11 le attività di dissemination devono essere inserite nei work package il project management oppure possono rientrare nei work package separati già fatto o già risposto allora domanda 2.5.1.2 è possibile inserire lo sviluppo di una web app fra l'attività specifica di un work package perché no se vi serve per il raggiungimento degli obiettivi di progetto rientra diciamo nelle spese che dovete sostenere per gli obiettivi specifici di quel work package assolutamente sì 2.5.13 perché è stato fissato il massimale del 20% per project management se alla fine si tratta comunque di una lump sum è stato fissato perché per l'appunto non può superare il 20% di quello che è il budget complessivo quindi è così e basta insomma la lump sum di 120 di 250 di 400.000 euro prevede che il rispettivo 20% di ciascuna di queste cifre complessive sia costituito al massimo il 20% di queste cifre complessive sia costituito da project management questo è quanto chiaramente serve a non trasformare quello che è il budget di progetto soltanto in management diciamo fin a se stesso ma a cercare di spingere di puntare a cercare di indurvi a puntare sulla realizzazione di attività di work package diciamo rivolte all'esterno non alla gestione del progetto stesso ok allora 2514 per i partenerati di collaborazione work package e budget dove devono essere compilati allora partenerati di collaborazione cooperation partnerships ok questo ve l'ha spiegato la collega Moliterni c'è la sezione apposita quindi dell'application form allora 2 5 1 5 nell'endbook on the lamp sun funding model si trovano dei suggerimenti che si adattano male all'application online delle azioni decentralizzate per esempio l'utilizzo di gun chart come possiamo fare allora innanzitutto l'endbook diciamo che è una sorta di guida di supporto ecco quindi voi diciamo la vostra il vostro documento principe rimane sempre la guida al programma l'utilizzo di gun chart c'è scritto tra l'altro nel landbook che non è obbligatorio è una cosa che potete eventualmente allegare tra i documenti annex dell'application form come spiegazione più dettagliata diciamo di quelle che sono le attività di progetto delle timeline ok quindi diciamo non è una cosa tassativa è una cosa in più eventualmente potete generare un allegato e allegarlo all'application allora 2.5.1.6 buon pomeriggio dissemination opportuno per vedere un work package dedicato e includere una descrizione delle attività di dissemination esclusivamente nella sezione impact ma allora ovviamente allora voi potete descrivere da un punto di vista generale quello che sono le attività che pensate di svolgere da un punto di vista della dissemination nella sezione impact però allora ovviamente se voi se voi volete fare un'azione di disseminazione avrete presumibilmente delle spese quindi da richiedere un budget specifico per svolgere attività di disseminazione quindi sì come si è detto prima o fate un work package apposito oppure prevedete delle attività di disseminazione per ciascun work package che andate a creare ovviamente non si parla di work questo rispetto a tutte le domande anche se fatto prima non si parla di work package di management che tecnicamente non ha bisogno di alcuna attività di disseminazione chiaro allora 25-17 quando sarà disponibile il manuale di rendicontazione non ho idea di cosa si intenda per un manuale di rendicontazione che non esiste nel senso a meno che non si intenda un'altra cosa allora attualmente il beneficiary module che sarà la piattaforma sulla quale si effettuerà la rendicontazione per chi di voi conosce già il programma diciamo l'equivalente del vecchio mobility tour per darvi un'idea non è ancora stato completato lo sviluppo non è stato ancora completato dalla commissione europea quindi attendiamo diciamo anche noi di sapere come sarà praticamente fatta la rendicontazione come sarà possibile farla però insomma vi terremo aggiornate e eventualmente organizzeremo un webinar specifico sull'argomento 25-18 volevo chiedere cosa intendete per newcomer se un ente organizzazione ha già presentato progetti per esempio in sport ma mai in adulti è da considerarsi newcomer grazie allora tecnicamente la definizione è un po' vaga nel senso è considerabile come newcomer allora direi di sì perché nel settore è un newcomer essenzialmente d'altra parte allora un vero e proprio newcomer sarebbe un'organizzazione che non ha mai presentato non ha mai partecipato a un progetto Erasmus all'interno del nuovo programma quindi poi chiaramente se si intende una candidatura che non è andata a buon fine diciamo sicuramente è un newcomer nel senso che non ha partecipato a un progetto non ha ricevuto un finanziamento perché il progetto non è passato in qualche modo ok allora 25-19 buongiorno caricamento di WBS dettagliata e piano finanziario dettagliato per attività e non solo per work page documenti facoltativi integrativi sarà considerata premiante in fase di valutazione allora non capisco scusate scusate cerco un attimo di dedurre piano finanziario dettagliato per attività no allora se la domanda è che un piano finanziario è necessario o comunque se è premiante inserire un piano finanziario dettagliato per attività no nel senso questo non dovete assolutamente farlo nel senso che non dovete dettagliarci spesa per voce di spesa per voce di spesa quello che intendete acquistare come bene o servizio e che quindi va a comporre la cifra che voi selezionate come l'AMSAM per l'attività questo assolutamente no nel senso che vi è richiesto di dettagliare quello che sono diciamo di parlare di attività e non di di presentare diciamo un elenco della spesa diciamo di preventivi ok questo no assolutamente no e non è premiante nel senso che vi viene richiesto diciamo di fare voi una valutazione di fare una sintesi non di presentarci un elenco di preventivi essenzialmente ok allora spero di aver risposto alla domanda allora 25 21 potreste fornire maggiori indicazioni sulla tipologia di work package da includere ad esempio se azioni di disseminazione non semplice comunicazione possono rivestire un intero work package penso che si sia già parlato di questa di questa cosa della disseminazione indicazione sulla tipologia di work package da includere nel senso è difficile darvi un'indicazione perché i work package permettano un approccio estremamente flessibile e quindi diciamo dipende voi come strutturate il progetto poi è chiaro che è difficile parlare di work package separato dagli altri è tutto il sistema che poi voi andate a creare che viene valutato diciamo nella sua interezza ok quindi è difficile darvi un'indicazione sulla tipologia ok 25 22 esiste un minimo di progetti per essere considerati newcomer no cioè nel senso il minimo di progetti abbiamo già detto è uno nel senso per essere newcomer deve essere zero allora si parla di progetti finanziati non di candidature 2523 il project management deve essere inserito come work package in application oppure basta compilare la sezione già predisposta nel formulario allora è già presente il work package del management quindi voi lo compilate ok non dovete crearne un altro e chiamarlo management cioè se è questo se è questa la domanda è già è già preformato ok quindi voi inserite i dati ok gli altri work package che inserite non sono i work package del management ma sono gli altri ok quindi 2524 budget nella descrizione dei work package e delle loro attività è bene specificare il dettaglio dei costi monte ore per le singole risorse umane coinvolte e costo orario eccetera allora nel senso può essere utile però diciamo che allora non è non è strettamente no diciamo che non è necessario perché poi si va a fare un dettaglio eccessivo sicuramente è più importante valutare gli indicatori qualitativi e quantitativi da questo punto di vista cioè quindi però questo ha più a che fare con le ricadute diciamo e non con quelle che sono le stime dei costi ok tant'è che i work package diciamo è quello che viene che per il quale si individuano gli indicatori quindi è il work package che è ricaduto le singole attività quindi se l'idea è di dettagliare questo tipo di di costi per andare poi a specificare il costo il budget della singola attività all'interno del work package direi di no cioè si torna diciamo a si torna a fare una diciamo una specifica una specificazione forse eccessiva diciamo quel famoso elenco diciamo di di preventivi che non è non è quello che vi viene richiesto 25 25 nelle linee guida si legge che in case during the implementation of the project beneficiary list to modify the budget allocated to a work package and the related list of activities this can be done by requesting an amendment ok quindi si quindi il concetto è che ogni work package diciamo in linea di principio il budget che gli viene assegnato rimane quello non si possono fare degli spostamenti senza richiedere un emendamento al budget come saranno gestiti ad esempio si intende che si potranno rimodulare ad esempio le presenze indicate a eventi training eccetera ma allora come saranno gestiti questo è difficile da dire presumibilmente come sono sempre stati gestiti gli emendamenti al budget anche nel precedente programma quindi con una richiesta formale da parte vostra però è bene ricordare che in questo caso qui è previsto una specifica rivalutazione di questa modifica al budget ok e quindi un'approvazione quindi non è scontato si intende che si possono rimodulare le presenze indicate a eventi questo si va da sé nel senso che questo è sempre stato possibile farlo cioè le presenze a eventi training eccetera poi sono diciamo un dato variabile cioè non è che voi dichiarate mando cento persone a fare questo training diciamo che questo rientra nella logica degli indicatori ma poi voi di fatto alla fine del progetto potete averne mandato invece che cento potete averne mandato di novanta oppure centocinquanta cioè questa cosa vi la potete sempre modificare ok chiaramente voi chiedete un budget avete un indicatore magari quantitativo in cui presumete diciamo avete diciamo un target che prevedete di raggiungere poi l'indicatore che scegliete magari il numero di presenze a questa attività poi queste presenze sono inferiori sono superiori chiaramente l'autovalutazione che vi viene richiesta in sede di report terrà conto poi di quella che è la discrepanza magari tra diciamo tra il numero di presenze effettive e quelle previste ok 25 e 26 per i partenerati di Pico alla Scala è possibile prevedere oltre a meeting di progetto online anche delle visite partner in presenza per discutere delle varie fasi progettuali certamente sì come si è detto prima le attività sono le più svariate se è necessario ovviamente il raggiungimento dei vostri obiettivi ovviamente allora 25 e 28 ogni work package deve contenere un risultato tangibile come in precedenza beh allora il risultato tangibile i work package non sono degli intellettual output ok quindi direi no la risposta è no nel senso che non è non è non è che un work package deve essere deve essere costituito da un risultato di progetto tangibile ok cioè deve portare al raggiungimento di specifici obiettivi ok ma possono anche essere obiettivi non necessariamente concreti nel senso di prodotti va bene è una definizione più vaga quindi 2533 la rendicontazione del partenerato di cooperazione da quest'anno è da considerare in costi reali non si usano più costi unitari grazie allora se andate a consultare la guida questa cosa qui è detta chiaramente nel senso che la rendicontazione la rendicontazione è la rendicontazione delle attività quindi non è una rendicontazione a costi reali cioè voi fate una stima diciamo che può essere basata diciamo presumibilmente basata su costi reali delle attività per le quali intendete richiedere un budget però poi la rendicontazione è la rendicontazione delle attività e non dei costi delle spese chiaro cioè questo è fondamentale non si usano più contributi unitari no nel senso che mentre nel vecchio programma c'era era tutto o quasi tutto diciamo il budget calcolato in base ai contributi unitari diciamo nel nuovo nella call 2022 non c'è più questa cosa poi se voi per vostra comodità volete usare dei contributi unitari indicativi rimane una vostra scelta un'opzione che voi scegliete indipendentemente dalle regole del programma 2534 rimane la possibilità di organizzare eventi moltiplicatori con un budget dedicato come nei vecchi partenariati oppure vanno sempre inseriti o vanno inseriti sempre nei work packages project management nella guida si parla di attività di comunicazione tra quelle comprese nei work package 1 sì ma non si parla di eventi moltiplicatori gli eventi moltiplicatori sono esterni comunicazione del management e comunicazione interna al partenariato ok quindi ad esempio un transnational project meeting potrebbe essere tecnica un kick off meeting che fate internamente fra voi partner può essere qualcosa che ricade diciamo nella categoria nel work package del management diciamo ma i vecchi eventi moltiplicatori sono per definizione rivolti all'esterno quindi deve essere inserito o in un work package apposito o come attività negli altri work package che non sono però specificamente dedicate alla disseminazione come già detto allora 2536 come calcolare i costi di staff costi reali o costi fissi sulla base dei precedenti modelli si è già risposto a questa domanda è una scelta che fate voi in base alla guida vi viene richiesto di fare una stima di quello che sono i costi che andrete a sostenere e quindi per i quali richiedete il budget probabilmente costi reali poi se voi per vostra comodità ritenete opportuno utilizzare dei contributi delle stime fisse non necessariamente diciamo basate su dei preventivi o su dei costi reali veri e propri è una scelta che fate voi 2537 questo è un link sinceramente non ora non mi metterei ad aprirlo insomma non so di cosa si tratti sinceramente insomma se è una domanda formulatela per iscritto e non mettetemi un link magari allora 2538 il cofinanziamento deve essere indicato in qualche modo se sì dove no allora il cofinanziamento non deve essere indicato non deve essere specificato ok quindi deve essere desumibile mi rendo conto che è un concetto un po' diciamo non estremamente focalizzato magari non estremamente specificato senza dubbio deve essere desumibile da quella che voi fate alle attività che voi descrivete le attività che descrivete in rapporto al budget che richiedete per le stesse diciamo devono essere stimabili di un valore superiore ok questo è il modo in cui diciamo la guida e poi questo viene ripetuto anche nell'handbook vi chiede di specificare quello che è il cofinanziamento che voi prevedete di dare all'attività 2539 per quanto riguarda i luoghi da indicare per le diverse attività dei work page da dove si tratti di attività di elaborazione di prodotti questa avverrà a livello internazionale congiunto tra partner com'è possibile dare evidenza di questo dobbiamo considerarle virtuali allora no perché non sono attività virtuali allora per attività virtuale si intende attività svolte con strumenti e in modalità virtuale ok cioè a distanza in questo caso qui qual è la venue da selezionare nell'application form per andare diciamo al sodo diciamo allora potete tecnicamente potete scegliere due opzioni o splittate organizzate meglio quelle che sono le attività all'interno del work package quindi specificate per ciascun partner che sarebbe diciamo la cosa migliore da fare quella che è la quota diciamo del lavoro che svolgerà quel partner magari le farete anche in compresenza ma lui avrà delle spese relative al personale che impiegherà per l'elaborazione di questi prodotti voi ne avete altri l'altro partner ne avrà altri ancora splittate in singola attività queste spese in alternativa se proprio non riuscite a definire meglio questa cosa qui che diciamo la scelta più sinceramente sarebbe la scelta forse migliore potreste indicare come diciamo venue così fittizia quella del coordinatore o comunque del coordinatore dell'attività se non è prevista la partecipazione del coordinatore del partenariato ad esempio ok quindi 2541 attraverso questo link si scarica un allegato word molto simile a quello di Europa creativa ok non va bene Nicolò se vuoi ti interrompo scusami questa domanda è collegata ad altre due domande successive ok questa persona ha inviato due link e chiede quale dei due link sia giusto il secondo è per fare l'application form il primo invece serve per il portale di finanziamento e delle gare di appalto quindi dei due link inviati il primo il secondo è quello giusto ok bene quindi passiamo alla domanda successiva anche perché non ci stiamo occupando di Europa creativa 2542 potreste spiegare i work packages come già detto allora innanzitutto consultate la guida consultate l'handbook che è di fresca pubblicazione diciamo cosa sono i work packages sono set di attività quindi macro aree che voi individuate all'interno del vostro progetto rispetto all'interno delle quali individuate quindi le varie attività che andrete a svolgere ok quindi questa è la spiegazione che vi posso dare di work package ok magari volevo aggiungere qualcosa nella presentazione che poi comunque vi troverete c'era anche una specifica sul work package cioè il work package oltre a essere un set di attività deve essere concatenato a una sezione del budget con propri obiettivi con propri indicatori cioè dovete considerarlo veramente come un pacchetto un pacchetto fatto di tante piccole sottoprodotti che vanno a completare proprio il set di azioni e quindi all'interno del set di azioni ci possono essere diverse attività cioè non vi focalizzate che ogni unica attività deve avere un work package ecco magari così si riesce a dare un'indicazione benissimo grazie Stefania giustissimo allora passiamo alla domanda successiva 2544 le vecchie LTTA sono ancora configurabili in un progetto di cooperazione oppure no sì come abbiamo già detto un'attività può essere anche un'LTTA cioè quella che era definita come LTTA quindi un'attività di insegnamento formazione insomma sì la risposta è sì 2545 per chi partecipa per la prima volta ci sono dei tipi di attività più adatte in generale ci sono tipi di attività che non sono ammesse ma allora tipi di attività più adatte questo lo sapete voi quali sono le attività adatte quelle che potete svolgere quelle che intendete svolgere in generale ci sono tipi di attività che non sono ammesse ma allora sono ammesse le attività che rispettano chiaramente un principio di coerenza e di utilità e di economicità rispetto a quelle che sono il raggiungimento degli obiettivi che vi prefigurate insomma che chiaramente devono in qualche modo essere attinenti a quelle che sono le priorità che le mie colleghe hanno delineato insomma quindi questa è diciamo l'ammissibilità di un'attività riguarda essenzialmente la sua coerenza e la sua la sua utilità poi all'interno di quello che è il progetto quindi 2546 come budget del singoli work packages in piattaforma si deve indicare il contributo richiesto al netto del cofinanziamento come va ok scusate ma allora sì nel senso che il cofinanziamento non vi viene chiesto di specificarlo di quantificarlo quindi il budget dei work packages del singolo work package è il contributo escluso il cofinanziamento che voi prevedete di immettere è solo quello che voi chiedete al programma Erasmus di finanziarvi ok il cofinanziamento lo sapete voi quantitativamente a quanta monta 2548 è possibile fare riferimento alla programmazione antecedente per quanto riguarda il calcolo del budget beh possibile è possibile è possibile tutto nel senso che voi potete potete se ritenete questo uno strumento adeguato per calcolare il vostro budget fatelo lo potete fare ma non è non è più una diciamo una diciamo non sono più dei valori ufficiali ecco è una cosa che voi prendete come come linea guida per vostra scelta ma non è più un riferimento ufficiale quindi se voi ritenete che questo vi consente di avere un calcolo realistico di quello che sono le spese che intendete affrontare con il progetto utilizzatelo pure nessuno vi dirà che non potete farlo insomma 2549 per eventuali ricandidature di progetti non finanziati in passata edizione è necessario procedere in qualche modo particolare no nel senso che non da un punto sul piano tecnico valutate se è opportuno ok valutate chiaramente di modificare variare migliorare ci sarà un motivo eventualmente se non è se non è passato al di là della mancanza fondi naturalmente se ad esempio la qualità è stata diciamo insufficiente chiaramente rimodulatelo ristrutturatelo anche perché soprattutto un conto è nella chiave 210 che già nella call 2021 era strutturata in questo modo parlando di chiave 220 la struttura è completamente diversa quindi se si tratta di un progetto 220 che volete ricandidare va ripensato tutto la struttura del finanziamento del progetto ok 2552 le tre lamp sam sono legate alla durata del progetto è plausibile un progetto da 400.000 euro con durata 24 mesi sono slegate dalla durata del progetto però la lamp sam deve essere ritenuta poi quella che voi chiedete coerente con quello che poi è complessivamente che sono complessivamente l'attività gli obiettivi di progetto quindi sì la durata è svincolata come parametro diciamo dall'ammontare del budget però poi quando sarà valutato sarà valutata la coerenza diciamo della cifra da voi richiesto con le attività che intendete andare a svolgere comunque sì la risposta diciamo in soldoni è che può avere 24 mesi durata e avere un budget totale di 400.000 euro 2553 dove possono essere descritti i partner associati all'interno del formulario di candidatura allora questo non so se la collega sì mi rispondo io Nicolò ok vai allora all'interno della sezione partnership dell'organizzazione dei partner c'è la partnership and cooperation arrangement in quella sezione potrete descrivere sia l'organizzazione sia la cooperazione tra tutti i partner con la specifica di ogni singolo partner lo ritrovate comunque all'interno di risorse e strumenti sul sito Erasmus Plus scaricherete proprio la guida completa in cui vi insegnerà passo dopo passo la compilazione del modulo di candidatura quindi vi basterà solamente scaricare nei prossimi giorni queste guide e passo passo provare a compilare il modulo grazie bene perfetto grazie poi ricordiamo che chiaramente essendo i partner associati non avendo un budget dedicato il loro inserimento è utile soltanto diciamo nella descrizione del progetto per giustificarne la partecipazione oppure per mettere in risalto aspetti particolari dell'implementazione del progetto quindi da un punto di vista essenzialmente di finanziamento non ha rilevanza ok che non vuol dire che non abbia rilevanza da un punto di vista diciamo del raggiungimento degli obiettivi o della qualità del progetto ben inteso allora 2555 un'organizzazione senza esperienza può applicare come capofile in una cooperation partnership assolutamente sì perché no non ci sono divieti specifici o requisiti minimi dal punto di vista dell'esperienza 2557 come sottoscrivere accordi con i partner se non ci sono i costi di staff fissi dobbiamo considerare i costi reali come vanno rendi contati allora di questo abbiamo già discusso abbondantemente questo dovete fare voi una stima una stima a costi reali ok va bene come vanno rendi contati allora non vanno rendi contate le spese cioè ognuno di voi organizzazioni rendi conterà le spese in base alla normativa di riferimento come sempre ma è una rendi contazione interna delle spese alle vostre organizzazioni voi a noi come agenzia nazionale quindi nell'ottica delle regole di Erasmus andate a rendi contare l'attività andate a rendi contare il raggiungimento degli obiettivi in generale sul piano qualitativo e dei singoli work package sul piano diciamo della performance nel senso del raggiungimento dei target rispetto agli indicatori indicati ok 2558 il progetto deve avere un costo pari a uno delle classi dell'AMPSAM sì nel senso che non ci sono non ci sono valori intermedi voi scegliete la LAMPSAM che è più confacente che è più adeguata a quelle che sono le attività e gli obiettivi di progetto e poi man mano che sviluppate work package e inserite le attività chiaramente poi la somma complessiva del budget che voi attribuite alle varie attività all'interno dei vari work package andrà ad essere pari a quella del budget totale l'AMPSAM quindi 120.000 parlando di chiave 220 120.000 250.000 400.000 parlando chiaramente di K210 la questione è più semplice nel senso che di mezzo non ci sono i work package ma il concetto rimane lo stesso ovvero che la somma delle attività che voi andate a inserire direttamente deve corrispondere poi a quella della LAMPSAM totale che richiedete quindi 30.000 o 60.000 non può essere 59.000 non può essere 31.000 non può essere 29.000 deve essere 30.000 o 60.000 spaccato 2559 da pre-action work package 1 e project management sì nella gestione del progetto è importante prevedere degli incontri tra i partner i TPM in quale parte si possono inserire è corretto inserire nel primo riquadro nel calcolare il budget di questo work package è corretto inserire anche i costi relativi alle riunioni allora è corretto inserire i costi più che altro il budget che avete bisogno perché avete spese diciamo avete delle spese relative per le quali intendete chiedere il contributo sì potete anche decidere se avete dei costi per le riunioni o prevedete di avere dei costi per le riunioni potete richiedere un budget e inserirlo anche nel project management chiaramente tenete conto che complessivamente essendo il project management non superiore al 20% del budget totale valutate bene diciamo come impiegare questa quota del budget ok se vi basta chiaramente poi i TPM anche qui sì diciamo tecnicamente sono inseribili TPM allora se dell'attività che voi equiparate ai vecchi TPM quindi ho un meeting transnazionale di progetto sono inseribili anche questi nel management nel senso che sono riunioni di progetto che voi fate tra partner per definire internamente aspetti del progetto sì teoricamente è corretto inserirli nel management anche qui valutate se si tratta effettivamente di attività così ben definite ben delineate interna al partenariato o meno perché appunto il 20% è una quota limitata queste attività possono essere inserite all'interno dei work package piuttosto si riferiscono a aspetti specifici di ciascun work package poi al di là del management che voi andate a sviluppare può essere un'idea richiedere un budget per una singola attività all'interno dei work package anche per un'attività che voi potete definire TPM ok valutate poi se il valutatore leggendo questo inserimento di TPM lo reputerà poi un'attività coerente e utile al raggiungimento dell'obiettivo previsto da quel work package questo è un ragionamento che dovete sempre fare 2563 nelle linee guida venne detto che however it is not required to demonstrate this by means of a detailed budget as an example if an applicant request a lump sum of 120.000 euro they will not be required to submit a detailed project budget where all the items sum up to more than 120.000 euro scusate vabbè but only to show that the estimated value of the planned activities is higher than the grant amount requested come è possibile offrire questa estimated value senza un dettaglio di budget dove può essere descritto allora questo l'abbiamo già detto si tratta che deve essere dimostrato dalla descrizione che voi fornite delle attività previste come c'è scritto ok quindi il valutatore deve essere dovete dare al valutatore gli elementi descrittivi diciamo dell'attività in base alle quali lui può dire bene effettivamente prevedono di svolgere un numero di attività per le quali poi la lump sum richiesta appare effettivamente non sovrabbondante ma un po' inferiore ok in modo da far capire che effettivamente poi alla fine le attività che andate a svolgere non sono del valore di 120.000 euro come in questo caso qui ma probabilmente cioè valgono di più bene in questo modo qui deve essere diciamo dimostrato il cofinanziamento quindi non dovete dettagliare il budget nel senso non dovete inserire voce per voce ok spendo 1000 2000 3000 questo no ok ah 2564 in base alle nuove regole per la costruzione del budget bisogna stimare i costi reali che dovranno essere sostenuti oppure è possibile fare riferimento ai costi unitari per esempio i contributi di viaggio su porto individuale previsti per la chiave 1 o i vecchi importi forfettari per differenziare il valore delle giornate lavoro nei diversi paesi coinvolti come sarebbe più opportuno procedere questo ne abbiamo già parlato abbondantemente è una stima che voi fate voi in base a quelli che sono i vostri riferimenti quindi volete usare i vecchi parametri nessuno vi impedisce di farlo valutate se questo poi non rischia di essere valutato come incoerente con quello che poi il budget è andato a richiedere rispetto all'effettivo diciamo all'effettivo valore dell'attività che è andata a svolgere 2565 in che sezione del formulario online sarà possibile specificare la presenza ed entità del cofinanziamento nelle descrizioni come si è già detto l'entità del cofinanziamento non va specificata la presenza nemmeno nel senso che deve essere desumibile dalla descrizione dell'attività che deve apparire di valore superiore stimabile stimabile come superiore rispetto al budget relativo che richiedete 2566 è possibile avere la guida in italiano si intende la guida programma è già disponibile in italiano quindi la potete scaricare dal nostro sito erasmusplus.it dalla sezione documenti ufficiali bene questa era l'ultima domanda abbiamo sforato di 20 minuti direi era prevista per le 5 la chiusura dell'attività non so se se volete fare un intervento a conclusione ma direi che potremmo chiudere ringraziamo per la partecipazione ci sentiamo ai numeri di contatto e all'email grazie bene grazie a tutti buona serata grazie a tutti alla prossima arrivederci